Gara intensa, mai facile per Giulianova che privo di cinque elementi viene a capo con lucidità e grande perseveranza di un Castelnuovo. Sempre in partita, mai domo con le giuste motivazioni che ha ripetuto la generosa prestazione di sette giorni orsono contro l'altra capolista. Primo quarto d'ora di contesa in cui il Giulianova fa girare palla, costruisce con pazienza al cospetto dell'efficace fisarmonica del team di Delgrosso che aspetta, pressa e chiude. Pochi spazi, quindi attenzione alle ripartenze alle palle inattive. Al sedicesimo, entriamo negli highlights ripresi da Manuel Centurame. Dicevamo, palla orizzontale sulla linea, si inserisce Boito e va in direzione Boccanera a provare il destro che però si perde in out. Al minuto 21, su calcio da fermo, i padroni di casa costruiscono la prima palla goal, anzi la prima doppia occasione da rete con le noci sulle quali Palermo si brodiga da campione. Ancora Boito al ventisesimo stavolta, il tiro viene smorzato nonostante la buona preparazione. Intanto Cerasi perde alla mezz'ora l'attaccante Persiani che rileva con il 2004 Elia, tre minuti dopo, l'episodio che sblocca la gara. Angolo di Cerasi, testa implacabile di Alessandretti, palle nell'angolo basso, 1-0. Da qui al termine della prima frazione, nulla da rilevare, apertura di ripresa, Castel nuovo più manovriero e determinato. Ma Cerasi è lesto a rialzare baricentro e concentrazione che fa entrare anche Francesco Di Paolo, togliendo un difensore le noci e scalando Di Giuseppe in linea di difesa. Al minuto 20 il direttore di gara sorprende Cerasi in atteggiamento falloso e lo spedisce anzitempo nello spogliatoio. La gara si alza in agonismo, Cerasi corre ai ripari ed inserisce l'altro Di Paolo al posto di Bracciatelli. Il collega del grosso manda in campo Zicari e Sidibe. È una gara a scacchi insomma che non prevede errori ma solo mosse come quella di Francesco Di Paolo che scappa a destra. Eliolo segue in parallelo, solo riceve e butta dentro il 2-0. Il raddoppio nel momento più delicato del match in cui il Castelnuovo si fa sorprendere dall'eccesso di nervosismo. Del grosso non si perde d'animo e in superiorità numerica prova a rimettersi in carreggiata la conclusione di Montano. Murata da bocca nera e sintomo evidente è sempre Montano. In pieno recupero viene nuovamente murato stavolta dalla Selva di Gambe che nega la gioia personale al numero 9 Nero Verde. Ma anche il gol della bandiera al Castelnuovo che alla fine deve arrendersi alla undicesima vittoria della capolista. Allora mister, grande pazienza, grande diligenza, grande concentrazione, grande sofferenza così che si portano a casa anche i tre punti. Sì, penso che questi concetti sono quelli reali di questa squadra. Ci vuole pazienza in certe situazioni, la lettura della partita in certe situazioni. Quindi sono contento che questi ragazzi stanno cominciando ad avere sempre di più questa maturità della gestione della partita. È normale che non vengono qua a guardare, nel senso che si chiudono bene, vogliono ripartire bene. Quindi dobbiamo stare attenti a tutte e due le fasi, come è giusto che sia. Però, come ripeto, vedo la squadra in vita, vedo la squadra che corre bene, che sono attenti su tutte e due le fasi, sono contento perché vedo una squadra veramente viva. Questo è quello che mi interessa di più, è questo atteggiamento che poi, se vogliamo veramente fare dei numeri, cioè da quando siamo arrivati qua, questa è la 55esima partita, abbiamo perso solo 7, 48 risultati utili. Poi mi viene in mente, abbiamo fatto la metà già dei punti dell'anno scorso, l'anno scorso 70 punti, uno staff tutto di Giulianova, tutta gente che ci vuole bene di Giulianova dentro lo staff. Un pubblico che penso che gli abbiamo ridato almeno la dignità di venire a Fadini, di vedere una squadra, dei ragazzi che veramente sudano per la maglia. Penso che dobbiamo essere contenti di che continuiamo a cacciare dei ragazzi pure di Giulianova. Giglio, sai che è la terza presenza da titolare. Sono tutte piccole soddisfazioni che noi quello che abbiamo detto veramente stiamo cercando di fare con le difficoltà perché abbiamo le nostre difficoltà, però lo spogliatoio, la società, che è una società che non ti fa mancare veramente niente, ci sta sempre vicina. Io penso che stiamo facendo un progetto che vale la pena da guardare. Ambizioso, una lettura a 364, a 360 gradi e soprattutto lottate punto a punto con un'armata come l'Aquila. Sì, ti posso dire questo oggi, ti posso dire che fino alla fine il genere non c'è, ci sarà e ci continuerà a essere perché noi non mogliamo mai. È difficile che mogliamo. Poi il calcio può succedere di tutti gli episodi, le partite, però noi siamo un gruppo, abbiamo creato un gruppo per durare nel tempo. Questo è quello che l'Aquila, come è giusto che sia, continua a vincere, però noi siamo là a dargli battaglia fino alla fine. Una battuta su Del Grosso che ha giocato con grande generosità oggi. Del Grosso è uno dei ragazzi di Giulia Sidocco, parlare di lui è veramente l'ultima storia del Giulianova professionismo, col fratello, quindi da rispettare, da tenere da tutto rispetto. Sono contento che lui venga considerato Giulianova, poi ognuno ha una strada. Adesso sta facendo, secondo me, per quello che ha a disposizione e bene con il Castelnuovo, speriamo e gli auguro un in bocca al lupo perché è meglio. Una prestazione che mi permetterei di dire migliore, quindi crescente rispetto a quella dell'Aquila. generosa, determinata, peccato che poi nel momento più importante avete perso qualcosa, altrimenti c'è stato molto carattere in questa squadra e anche ben messa in campo. Fondamentalmente noi volevamo equilibrare la gara, nel senso tenerla in equilibrio, non cercando di rischiare pochissimo, cercando di far uscire il Giulianova per poi ripartire. Inizialmente l'abbiamo anche interpretata bene. Per quasi tutto il primo tempo. Sì, quando dici abbiamo perso qualcosa abbiamo perso la testa, secondo me. Cadendo a degli episodi che non mi piace, non mi piace vedere giocatori che si innervosiscono, che la mettono sulla sfida, sul rispondere al pubblico. Non sono cose belle, anche perché poi il nervosismo sale e noi siamo caduti in degli errori che poi una squadra come il Giulianova ti punisce. Quindi sappiamo che siamo carenti nelle punizioni, nelle palle inattive, e anche a farlo apposta abbiamo regalato un calcio d'angolo da cui scaturete il primo gol. Anche lì un atto di nervosismo, sembrava che il giocatore volesse mandarla proprio chissà dove. Sì, ma infatti quello a me non piace, non ci può stare, soprattutto per l'obiettivo che dobbiamo raggiungere noi. Però ecco, adesso sono episodi, adesso andiamo a casa, si ricarica le batterie, perché domenica abbiamo la Torresi in casa e comunque auguro al Giulianova di raggiungere gli obiettivi che ha, perché insomma se lo merita e io da primo tifoso quali sono me lo auguro. Il mercato ti potrebbe regalare qualche giocatore, perché questa squadra ha tutti i numeri per potersi salvare. Sicuramente un pensiero lo faremo, adesso dovrò parlare con la società per vedere quali sono anche le loro idee, quindi sicuramente qualcosa faremo.